Sfida play-off sabato alle 19 al Palace Portestra, Trame, Scuola Basket ed Eddi Asfalti a Iana. Dopo il turno infrasettimanale, Yamaranto si presentano alla terza partita in sette giorni, affrontando un avversario che all'andata strapazzò i ragazzi di coach Evangelisti con il punteggio di 95-64. A Iana, guidata in panchina da coach Mannelli, è una squadra molto esperta che può contare su tre realizzatori oltre la doppia cifra di media. Per la difesa retina ci sarà da limitare la fisicità degli avversari, fattore che all'andata fu determinante per far pendere la bilancia a favore dei pistoiesi. In casa Maranto si lavora per recuperare Fornare, uscito malconcio dalla sfida con la Synergy. Per il resto è arruolabile anche il giovane Filippeschi dopo l'attacco influenzale che lo ha costretto a saldare il derby di San Giovanni. L'appuntamento per gli sportivi a Maranto è dunque per sabato alle 19 per la nona giornata di ritorno di questo campionato di Serie C Gold che vede ad oggi l'Amen Scuola Basket Arezzo in piena zona play-off per la promozione in Serie B.